Siamo orati Gesù e Maria, comincia con questa domenica il ciclo del tempo ordinario, come abbiamo spero letto dal bollettino della scorsa settimana, ci accompagnerà fino al mercoledì nel prossimo 14 febbraio, in questo primo intervallo leggeremo il Vangelo di San Marco come in tutto l'anno liturgico e concettuate con parentesi da questa domenica in cui per introdurci appunto al ciclo ordinario la liturgia ci presenta questo Vangelo dove c'è la chiamata, i primi discepoli da parte di Gesù che richiama la chiamata di San Moele che abbiamo ascoltato una prima lettura, quindi il tema di questa domenica è appunto la chiamata di Dio, la vita cristiana si fonda su una chiamata che il Signore ci fa, attenzione, va a qualcuno di noi per nome, Samuele sente la voce di Dio bisonare dentro di sé, che lo chiama, Samuele, e Gesù chiama per nome gli apostoli, addirittura vedremo che ad uno ve lo cambiano, se si muore figlio di Giovanni sarei chiamato Cefa e se il Signore ci aiuta vedremo anche che significa questo cambiamento del nome, attenzione che quando si parla di chiamata di Dio non si fa riferimento soltanto come a volte si pensa, no? Dio a quello l'ha chiamato a diventare prete, a quello l'ha chiamato a diventare suola, a quello l'ha chiamato a diventare frate, io mi sono sposato, io nel mondo a me Dio non mi chiama proprio, no? E non c'è scritto che questi sono chiamati per diventare preti, frati o suole. C'è una chiamata che Dio ci fa a cosa? A vivere in intima comunione con Lui, a seguirlo, ad essere suolo, e questa chiamata insegna la Santa Madre Chiesa sulla scorsa delle relazioni, è per tutti. Io conosco qualcuno di voi, adesso non voglio guardare i vostri nomi in diretta dal compito, non come ripeto qualcuno, ma Dio ad ogni essere umano, chiamo Francesco, Nicola, Giovanna, Nicoletta, per noi. Allora cosa ci dicono queste letture? La prima lettura, attenzione, nella prima lettura noi abbiamo la chiamata di Dio che Samuele avverte in maniera non chiara e misteriosa dove? Dentro di sé. Dormiva nel tempio del Signore, il Signore lo chiamò Samuele, risponde e gli dice, guarda che mi sembra che il Signore va a chiamare, non ti preoccupare, torna a tornare via. Due, alla terza volta, se ti sentissi un'altra volta questa voce, rispondi, parla sicuro del tuo servo, l'ascolto. Ora cosa significa questo? Vi sapete che è di rappresenta il sacerdote, ma di rappresenta la mediazione. Significa che, anzitutto, qui dobbiamo fare a tutti molta attenzione e faccio subito una domanda. Noi dobbiamo imparare, prima cosa, ad ascoltare la voce di Dio che risuona dentro di noi. Non è che Dio non ci parla nel cuore, a tutti ci parla, nessuno escluso, non ha mai chiuso i ponti di comunicazione con nessuna creatura. Siamo noi che non ci mettiamo ad ascoltarlo, non è noi che non ci parla, o che non siamo capaci di ascoltarlo e bisogna vedere perché. La seconda lettura, con cui vorrei chiudere con un breve cello, ci dà un grosso stato che gli uomini possono mettere frapporre e riconoscere la voce di Dio, che è vivere una vita in balia delle passioni dei sensi, di impurità. I maestri di spirito dicono, se una persona è coinvolta o rapporta nel vizio della russuria, sta tranquillo che la voce di Dio non la sentirà mai, perché non c'è niente che negrada tanto l'uomo quanto la russuria e non c'è niente, come dire, così spirituale quanto la voce di Dio. Quindi siamo proprio su due poli completamente opposti. Se tu stai così in basso, così impastato di terra, sta tranquillo che la voce di Dio non la saprà riconoscere. Dobbiamo sempre farci attenti, su questo ci spero sempre tanto, quando mi sentirete, perché Dio vi parla nel vostro cuore, a tutti. Quando stiamo facendo qualcosa che non funziona, anche se non siamo perfettamente consapevoli, ricordiamo sempre che dentro la nostra coscienza suona un campanellino, vedete il campanellino che suona durante la messa, tra poco quando c'è la consagrazione, suonerà il campanellino. Non che il campanellino dice, guarda che adesso devi mettere in ginocchio che c'è la consagrazione, no, il campanellino è un segnale, che succede? Succede che adesso sta la consagrazione, quindi aveva il Signore, quindi stiamoci con la testa. Ecco, invece il campanellino che suona dentro di noi ci avverte che forse dovremmo fare qualcosa e non la stiamo facendo, oppure forse non dovremmo fare qualcosa che stiamo facendo. Bisogna vedere se noi lo ascoltiamo nel campanellino, oppure no, con la nostra testa cominciamo a convincerci di tante cose e Dio ci parla in un modo e noi ci orizzontiamo in un altro. Ci sono anche questi esempi nella saga struttura. Quindi, innanzitutto, c'è un compito che noi abbiamo di imparare ad ascoltare la voce di Dio che ci parla nel nostro cuore, creando anche gli spazi e i momenti opportuni per questo. Poi, in un secondo momento, invece la mediazione ecclesiale, devo assolutamente dire, non mi cerco un prete perché devo un attimo confrontarmi, no? Dico, a me mi sembra che il Signore mi stia dicendo questo, questo, questo e questo, che nella mia vita devo fare questa, 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 questa scelta. Lei è il Padre che ne dice? Ma è un passaggio successivo. Cioè, noi non dobbiamo mai credere che il Signore non ci parli anzitutto, personalmente, diamandoci per nome alla tua situazione, alla tua anima che lui stesso ha creato nella tua circostanza concreta di vita. Poi abbiamo il Vangelo. Il Vangelo, ci sono le chiamate di Gesù, San Giovanni Battista, vede arrivare Gesù, sposta i suoi discepoli, che erano Andrea, il fratello di San Pietro, e San Giovanni Evangelista dice qua, il mio compito è finito, adesso seguite. E Gesù li accoglie. Due cose dobbiamo comparare da questo Vangelo. Numero uno, se io voglio seguire Gesù, che cosa succederà? Dove ci porta? Gesù non risponde. Dice, maestro dove abiti? Non dà una disposta precisa. Dice, venite e venite. Cioè, se noi scegliamo di seguire il nostro Signore, non possiamo cominciare a mettere le mani avanti dite, aspetta un attimo, dopo. Io dice, vengo pure di dire, però mi spiega bene che succede. Se mi conviene o se non mi conviene. Quindi il nostro Signore ci chiede una adesione di fiducia. Si accredita, con la sua bontà e con la sua emilità, dopo che gli dice, vieni e il mano a mano che mi segui scoprirai bene quanto è bello stare con me, chi sono e dove ti porto. Lasciami però, non è per mano. La prima cosa. La seconda cosa, vedete, Gesù, quando era sulla terra, si manifestava le persone attraverso la mediazione della sua umanità. Voi pensate che quando uno incontrava Gesù, vedeva in Gesù Dio in persona? Lo vedeva con gli occhi. Si accorgeva che poi era veramente Dio fatto uomo? No. Era la sua stessa umanità che rappresentava un punto, una mediazione tra l'uomo e la divinità. Quindi seguendo Gesù, quello che vi ho detto nel Vangelo, chi ascolta la mia parola, ascolta la voce del Padre, chi segue me, segue il Padre, chi accoglie la mia parola, accoglie la sua, chi vede me addirittura vede il Padre, però si vedeva la sua umanità. Allora, cosa ci ricorda questo particolare? Che oltre a un apporto personale e immediato che noi abbiamo con Dio e che dobbiamo far riconoscere il nostro cuore, c'è un altro modo con cui il Signore ci si manifesta e ci chiama, cioè attraverso i mediatori. Ecco perché la Chiesa è fatta di figure istituzionali di uomini. In una parrocchia c'è il Padre, in una dioce di Cervesco e in tutta la Chiesa c'è il Papa. E poi ci sono tutti i testimoni autorevoli che sono gli amici di Gesù, i Santi. Allora noi, ascoltando e seguendo questi mediatori, al di là della loro umanità, che a volte può anche essere non assolutamente perfetta, entriamo in contatto con Dio. Quindi c'è una dimensione interiore e personale, tua, intima, ed una dimensione mediata. Ecco perché è necessario camminare insieme nella Chiesa. Ci sono tutte e due le dimensioni. C'è la tua vita personale ed intima che ha bisogno della mediazione solo in un secondo momento, quando tu vuoi confrontarti con qualcuno per sottoporre a discernimento l'autenticità di come ti sta diventando e invece c'è una dimensione istituzionale, come dire, propria. Cioè Dio passa attraverso di te, attraverso i suoi amici dietro i quali si nasconde, non diversamente da come si nascondeva quando era sulla terra, dietro la santissima umanità di Gesù. Spero di essere stato chiaro, queste sono cose importantissime della nostra vita anteriore. L'ultimo aspetto, cosa fa Gesù quando incontra San Pietro? Gli cambia nome. Voi sapete che un tempo, non so se lo sapete, quando uno diventava religioso, cambiava nome. Voi sapete che il padre Pio non si chiamava Pio, lo sapete, no? Il padre Pio si chiamava, al secolo si diceva Francesco Forgione, cioè quando poi diventava frate, che incossava l'abito, dice da oggi in poi non sei più Francesco Forgione, ma sei fra Pio e la Pia Vercina. Questo non vale soltanto per i frati, ma questo vale per tutti, cioè chi ha incontrato Gesù, io ho sempre detto che poveramente nella mia presidia senza un mio merito, io penso di averlo incontrato Gesù. Cioè, sa dire benissimo che c'è una differenza sostanziale tra com'era la vita prima di incontrare Gesù e com'era la vita dopo averlo incontrato. Questo rappresenta il cambiamento dell'uomo, cioè sono sempre io, ma non sono più io, sono un'altra persona. Capite? Allora, quando veramente noi abbiamo incontrato Gesù c'è uno scarto tra un primo luogo, il cambiamento dell'uomo indica questa cosa a livello symbolico. Cioè, ti chiami Simone, poi ti chiamano Pietro, infatti Pietro, da quel giorno in poi sarebbe chiamato Simon Pietro, Cefa, è il termine greco che in latino si c'è Pietro, Cefa, è il termine greco. Quindi, non ti chiamano Pietro di Simone, non sei semplicemente più il buon pescatore di Galilea, bravissima persona, persona tutta di un pezzo, anche se un po' era scivolo, questo era San Pietro, ma sei il discepolo di Gesù. Quindi rimanendo te, perché tutti quanti rimaniamo ovviamente noi stessi, però diventi qualcosa di nuovo, di più bello che prima non c'era. Come vi accettavo prima, grossi ostacoli alla sequenza di Gesù. San Paolo ci ricorda il problema grosso dell'impunità. Adesso non c'è tempo, non è neanche la sedia opportuna per approfondire questo discorso. Dico moltanto che l'impunità oggi dirà, sotto tutti quanti i punti di vista, voi sapete che l'impunità ha quattro livelli di manifestazione. Quello per atti impuri, che sono di tantissime specie. C'è un coscoletto che ti vuole approfondire sui banchi della Chiesa che si chiama il peccato impuro, perché c'è stato fatto un discorso molto lungo ed elaborato, perché l'impunità è in agguardo, anche nelle persone che sono sposate, ci sono delle forme di impunità che coinvolgono anche il matrimonio. Fuori del matrimonio poi sono molto molto diffuse. Poi c'è l'impunità, oggi molto diffusa, dello sguardo, degli occhi. Oggi purtroppo dilaga il triste fenomeno della pornografia più generale dell'immodestia, cioè dello stentare la propria personalità, ma al fine di provocare. È un problema questo. Si becca con gli occhi, eh? Non desiderare la donna d'altro, non lo comandamento. Poi c'è l'impunità nel parlare, non soltanto con i discorsi usciti. Oggi dilaga il turpilopio, che è l'impunità della lingua, dicono le maestri di scritto. E poi c'è l'impunità del pensiero. Quando ci sono una gerola, le pediglie dice, beati pure di cuore, perché vedranno a Dio, va a riferimento proprio quelli che sono puri anche nel pensiero e nei desideri. Allora, da questo mostro, ripeto, dobbiamo starne all'alto, perché quanto più noi siamo, Dio non voglia, impastati o indischiati nella purità, e tanto più siamo lontani da Dio, diventiamo completamente ebedi. La sua voce non la sentiamo più riconoscere, né nel nostro cuore e nemmeno quando ci parla attraverso i suoi amici, che anziché esserci simpatici, come dire, aiuti verso di lui, diventiamo immediatamente antipatici, perché comunicandoci la voce di Dio, la voce di Dio contrasta assolutamente con la voce del mondo e dei sensi, e quindi determina una distonia, un oiato, una frattura. Quindi il primo, non è un unico, ma è un grande ostacolo di dire la voce di Dio, è questo. Io dico sempre alle persone, il primo grande passo verso la conversione autentica di una persona è che si chiude definitivamente con ogni minima forma di impunità. Non è la fine, magari bastasse solo questo, però è l'inizio certamente di un cammino di profonda comunione con Dio, che da quel momento in poi comincia gradualmente a farsi conoscere sempre più e sempre meglio all'anima. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a percorrere con gioia, non soltanto nel ordinario per raggiungere la nostra vita, il nostro cammino di seguire e soprattutto che istigna il nostro cuore il desiderio di conoscere Dio Gesù, perché se non lo conosciamo non lo possiamo seguire, non gli possiamo volere bene, non lo possiamo servire e se questo non facciamo, la nostra vita non sarà il capolavoro di bellezza e di santità per la quale non siamo stati creati e che Dio vorrebbe che per ciascuno di noi fosse. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre.